obiettivo salute alimenti per lo svezzamento per un bambino di 6 8 mesi il seguente è un modello orientativo nella fase di svezzamento non si tratta di uno schema rigido ogni bambino è diverso dall'altro quindi il modello va personalizzato con l'aiuto del pediatra latte materno o latte di formula porzioni 3-5 pasti al giorno circa un litro di latte al giorno ricorda 100 grammi di latte materno forniscono circa 70 chilocalorie il latte materno è diverso da quello in polvere differisce da questo soprattutto perché contiene anche il latto ferrina e immunoglobuline che sono assenti nei lati artificiali cereali e amido porzioni 3-5 cucchiai da tavola di cereali al giorno ricorda i cereali sono la base dell'alimentazione salata del bambino vanno privilegiate creme di cereali non addizionate di zuccheri o sale si inizia in genere con la farina di riso poi mais o tapioca per evitare l'effetto allergizzante del glutine contenuto nel grano che viene introdotto di solito dopo l'ottavo mese di vita frutta frutta porzioni va consumata solo fresca frullata e omogeneizzata da un quarto a mezzo frutto al giorno ricorda la frutta è fonte di vitamine sali minerali e fibre in genere si introduce per prima alla mela e in seguito la pera e così via inserendo sempre nuovi frutti di stagione fino ai 10-11 mesi si sconsiglia però l'uso di agrumi pesche e fragole per il loro potenziale potere allergizzante verdura porzioni circa mezza tazza al giorno di vegetali passati cercando di alternare i colori arancione verde e giallo ricorda la verdura è fonte di vitamine e minerali ma soprattutto di fibre tutte le verdure in crema sono utilizzabili fin dalle prime fasi di svezzamento tranne le crucifere famiglia dei cavoli i carciofi l'aglio e la cipolla che possono favorire la formazione di gas nell'intestino e vanno introdotti in maniera molto graduale intorno ai 10-12 mesi di vita alimenti proteici porzioni per i primi anni di vita privilegiando le carni bianche come il pollame da evitare del tutto salumi e insaccati semaforo verde invece per il pesce i latticini sono una fonte importante di calcio ma vanno consumati con moderazione l'uovo ha un elevato potere nutritivo ma è anche allergizzante specie nei primi mesi di vita verso i 10 mesi si può introdurre il tuorlo dopo l'anno anche l'albume che deve essere sempre ben cotto grassi da condimento porzioni un cucchiaio da tavola di olio d'oliva extravergine in ogni pappa dopo l'inizio dello svezzamento ricorda l'olio extravergine d'oliva è l'unico grasso ammesso nella cucina dei più piccoli è ricco di acidi grassi insaturi e sostanze antiossidanti quindi molto utili al bambino grazie a tutti